Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un ulteriore guasto al macchinario della risonanza magnetica dell'ospedale Madonna del Soccorso provoca l'ennesima polemica sulla qualità della sanità sanbenedettese. Se la AS in una nota fa sapere che il problema rilevato il 3 gennaio è stato riparato il 5 e che entro la fine dell'anno si provvederà ad un nuovo acquisto, l'associazione cittadinanza attiva che ha evidenziato il problema chiede con forza pari dignità del nosocomio sanbenedettese con quello di Ascoli. La risonanza magnetica continuamente è fuori uso e continuamente i pazienti con patologie di una certa rilevanza devono essere trasportati in Ascoli o in altri centri. Qui a San Benedetto purtroppo registriamo continuamente rotture a diverse attrezzature importanti. Le previsioni di spesa ci sono però questa spesa non viene mai fatta. Il nostro ospedale ha una dignità, i pazienti del nostro ospedale hanno dei diritti che vanno tutelati. Comunque abbiamo una provincia, sì l'ospedale su due plessi eccetera, ma a me se non concesso che Ascoli abbia tutto funzionante non è sufficiente per tutte le persone che si rivolgono all'ospedale, quindi una sola attacca in Ascoli non è sufficiente. È necessario comunque che San Benedetto sia un ospedale funzionante. La cittadinanza attiva sottolinea che spesso nelle gare di acquisto dei macchinari sanitari non viene ricompresa la manutenzione degli stessi. Inoltre si fa presente che alcune recenti scelte della politica regionale sembrano penalizzare ulteriormente l'ospedale di San Benedetto. Chiaramente una manutenzione che non è prevista nella gara d'appalto non va bene. L'acquisto dovrebbe avvenire entro il 2023 è un procrastinare e siamo preoccupati di questo procrastinare perché avremmo voluto invece rilevare una discontinuità, una discontinuità che è stata proposta dalla regione su due plessi. E infatti noi avevamo anche sottolineato, non poco, perché non è superficiale leggere AST Ascoli Piceno. Noi avremmo voluto vedere scritto anche AST Ascoli Piceno San Benedetto del Trondo. E' una questione che ci sono due plessi, quindi pari dignità. Tra Ascoli e San Benedetto si rischia un ospedale di serie A e uno di serie B o è già così? Noi temiamo che questo scivolamento ci possa essere, lo vediamo da queste cose.